Al via la prima udienza del troncone ordinario del processo antimafia Montagna. Sono indagate sei persone, l'ex sindaco di San Biagio Platani Santo Sabella, Domenico Lombardo Salvatore Montalbano e Antonio Scorsone di Favara, Calogero Principato di Eguigento e Giuseppe Scavetto di Castel Termini. Alla prima udienza non si è presentato in aula Sabella, che ha preferito restare in carcere, presenti ovviamente i suoi legali difensori. Il dibattimento si è aperto davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato. L'ex sindaco di San Biagio Platani si era dimesso dopo l'arresto scattato il 22 gennaio dell'anno scorso nell'ambito dell'operazione antimafia Montagna. Sabella è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa perché avrebbe stretto un accordo elettorale col capo mafia del paese, Giuseppe Nugara, che, in cambio di piccoli appalti e posti di lavoro per uomini a lui vicini, gli avrebbe garantito sostegno elettorale. Secondo gli inquirenti, ad essere macchiata sarebbe stata persino l'organizzazione dei famosi archi di Pasqua, con una serie di favoritismi che avrebbero aiutato imprese vicine ai boss locali. Il pubblico ministero Alessia Sinatra e i difensori hanno illustrato i rispettivi mezzi di prova, ossia le liste dei testimoni e i documenti da produrre al fascicolo. I primi teste ad essere sentiti saranno gli ufficiali dei carabinieri, che hanno coordinato a suo tempo le indagini. Al termine della seduta, il presidente ha fissato la prossima udienza per giorno 4 aprile, quando inizieranno le deposizioni dei primi testimoni. Il troncone abbreviato del processo Montagna, invece, era già cominciato nelle settimane scorse. Alla sbarra 54 soggetti, per i quali i PM, al termine della requisitoria, hanno chiesto condanne per oltre sei secoli di carcere. L'inchiesta, nel suo complesso, avrebbe disarticolato le nuove cosche della provincia di Grigento e fatto luce su un traffico di droga gestito dal clan.